posso no a te posso 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 con graturarmi con lei faccia con noi il verso del quotidiano italiano volevamo stringerle lavamo per il fatto del bidoncicci lei è veramente un posto ci vedongi qualche mettere il posto la mamma e ci tengo la mano quasi chi è non è la signora ruba è chic che la parcheggia la signora metto bidon togli il bidon metto bidon togli il bidon posso quello quella carattacca kid se cos'è mia guidò karate togli la macchina metti il bidone metti la macchina togli il bidone togli metti metti togli metti la signora è sempre che va a farci la canzegna la nesne calcio fa vecnes la mattina va a me no qui tu non c'entri niente sei strano i fatti è strano i fatti è completamente è strano i fatti è logico io se che so è strano è strano si discorre non è che mi discorre non c'entra c'è qualche volta signori sparcheggio la parche ma però è capitato qualche anno ma non che perché che perché io sto qua ma chi lo mette il bidone non ha paura che i vigili vengono che sono a fare un sacco di molto io ce l'ho in famiglia il vigile la mattina lascia il bidone prende il bidone mette la macchina mette la macchina no 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 sta sempre la la mia macchina non esco mai qualche residente ten la la sosta per questo fa e chi è il vigile in famiglia mio frate 2 a un ba un ba un ba un ba un ba un ba va bene signora non teme la multa lei ma perché sta parcheggiata bella bene un'eresia non è vero che c'è un bidone che prende il posto la macchina e poi togli il bidone metti la macchina metti di a chi te l'ha detto di farsi i cacchi cacchi suoi oh quindi fatti i cacchi cacchi tuoi tu che ce l'hai detto e fai il giro l'isli affè prima o poi il posto lo troverai fai il giro gira 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 la vera notizia qual è che c'è gente che beve la birra ghi la birra calda è così dillo 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 fallo sapere al mondo a bari c'è ancora chi beve la birra calda tre birre piccole 61 euro è così sì o quelle ok significa ok tanta di attuale cosa ha fatto è così dillo quasi giurano lo giù su che cosa hai fai il giuramento nostro e per me come si mi ha risposto aum 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 vai ciao